Ecco signora, questo Green Pass da chiedere ai clienti, voi come l'affrontate? Siete pronti? Cosa ne pensate? Noi senz'altro non ci sono problemi, quando sarà il momento chiederemo il Green Pass, però i nostri clienti sono prettamente stranieri e sono già tutti vaccinati, arrivano già tutti con il Green Pass, già da adesso. Ecco sarà per mangiare solo all'interno, è obbligatorio, forse l'estate si preferisce mangiare fuori? I nostri clienti prevalentemente mangiano fuori, quindi... Non la preoccupa questo Green Pass? Non è una cosa che mi preoccupa nel modo più assoluto, mi sembra giusto. Perfetto, grazie.